che si vede a Sant'Alessanza allora Renato raccontaci è una delle rare occasioni che avevo il dubbio che da qualche parte si potesse scendere perché Cimafferle Cimafferle era visibilissima e si poteva c'è piena di prati solo che tutta la Cimafferle era una scendenza enorme a più 3, più 4 sia andando dritto sia virando a un certo punto ho pensato di seguire l'erba poi in realtà avevo comunque avevo una componente contraria da dove? c'è il vento che risale in atterraggio siamo passati adesso il vento è girato è da sud da sud-sud-est in questo momento strano a una certa al quota era molto più forte la componente da nord sì sì e qui poi avevo visto un campo grande poco più avanti poi all'ultimo mi sono accorto che non era sulla strada dall'alto sembrava sulla strada in realtà era sopra elevato poi hai visto le piscine poi ho visto le piscine il campo c'era linee elettriche ce ne sono ma sono da quella parte lì ma è rialto? è rialto qua sopra? no sono arrivato abbastanza basso però poi sotto sotto una certa quota si saliva di nuovo per cui ho dovuto fare orecchie acceleratore a fondo corsa e fare degli otto senza neanche riuscire a perdere ho perso poi gli ultimi 50 metri e sono atterrato proprio qui bene poi mi sono cercato l'ombra e poi è arrivata una macchina dalla polizia mi diceva tu sei Renato solo tu puoi essere qua cosa è questo? è un ragazzo si lamentano che non hanno macchina c'erano delle BMW nuove di trinca ragazzi era uno della stradale? no il polizia ci conosce io l'ho già visto il nome l'ho detto Alba non me lo ricordo più ma è uno di Genova? no a se? non so è un po' scuro ha detto che è passato dall'aviosuperficie di Acqui e Agostino non l'ha visto e raccontami un po' la chiusura che ti ha fatto appena partito? eh vabbè quella me la son tenuta perché era abbastanza turbolente si ma del resto il paesaggio si vede è un paesaggio infatti quando poi quando poi vabbè io mi sono andato lungo la cresta perché dopo un po' ho visto benissimo l'atterraggio però volevo andare sul cocuzzolo no si vede subito appena parti appena ti alzi ho seguito la cresta poi l'ultimo cocuzzolo e lì sparava e dove hai cominciato la salita? subito le giravo per il piacere di far quota poi a un certo punto ho detto sì ma vabbè ora basta dove atterro laggiù non avevo voglia di andarci ho detto scelgono dei campi di cimaferro che è enorme ne sono tantissimi sono passato sopra di voi ero in completa salita saliva dappertutto infatti a un certo punto ho detto oggi sarebbe bello fare un cross però eh beh l'hai fatto un cross crossino crossino lento perché poi l'avevo giacca l'avessi potuto fare con la giacca eh la giacca infatti me la sono poi te la sei eh me la sono vabbè cimaferle piscine di cartosio quanto è una vabbè eh lo vediamo diciamo stradale sono 15 km eh saranno una decina vabbè ed ecco qua l'atterraggio dove è atterrato Renato eccolo là Castelletto d'Erro guarda Castelletto d'Erro è questo qui quindi siamo vicini vicini vedete quello di Castelletto d'Erro è qua sopra un po' più su a sinistra dietro l'albero più o meno è comunque uno che ti conosce e che ci conosce guido la vespa guido la vespa? non lo so te l'ha detto non l'ho chiesto qua no lo so si voleva l'altra vela si voleva l'altra vela quale altra vela? la BGD? la BGD mi sono trovato a mio amico avessi fatto bene ci voleva tutto a partire Renato ci voleva tutto a partire eh no no ma poi vabbè si però bastava uscire che poi la materia prima c'era ah si si ha garantito garantito era lì che va bene quindi da rifare? da riprovare? no però riproviamo? devi riposare torniamo su torniamo su te la saresti goduta verso Acqui eh si andiamo verso Acqui certo per il triamo verso Acqui